Se stai avendo un problema riguardo a Steam, chi non riesce ad aggiornarsi perché c'è un problema con la connessione, anche se sei connesso a internet ma non si aggiorna e non si avvia a Steam, quindi riesce così questo errore, è possibile andare semplicemente sul pannello di controllo del nostro sistema, quindi vai a scrivere pannello di controllo, vai direttamente su rete e internet, centro connessione di rete e condivisione, modifica impostazioni, scheda, puoi disabilitare e abilitare di nuovo la rete, tasto destro sopra, disabilita, abilita di nuovo, facciamo sì, ora la connessione Ethernet è abilitata, possiamo anche chiudere queste schede, una volta fatto vai direttamente sul cmd, scrivi cmd qua sotto, esegui come amministratore il prompt dei comandi, scrivi qua sopra ipconfig spazio slash flush dns, cache di resolve dns svuotata e scrivi qua exit, se non dovesse bastare puoi semplicemente andare su esegui, scrivi qua sopra esegui, qua dentro scrivi %updata %, fai ok, vai in updata local, scendi fino a giù, fino a trovare Steam, eccolo qua, puoi cancellare questa cartella Steam, cancelli solamente le cache, quello che tieni salvato sull'impostazione e tutto, non cancellerai giochi o salvataggi, quindi cancelli solamente le cache del launcher, una volta fatto avvia Steam e devi accedere con le tue credenziali, essenziali, ed eccolo qua, per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!